I capelli biondi sono tra i più desiderati dalle donne, regalano luminosità al viso e quel tocco seducente e glamour che ricorda Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, le icone sexy degli anni 50 e 60. Tuttavia, quando si vuole passare al biondo, pur avendo naturalmente i capelli chiari, non è facile valutare quale tonalità sia la più giusta per valorizzare l'incarnato e i lineamenti del viso. Come fare? In questa guida spiegheremo come facilitare la scelta della sfumatura del biondo più adatta, semplicemente analizzando il sottotono della pelle per capire a chi stanno bene i toni freddi e i toni caldi del biondo, la giusta tonalità di biondo in base al sottotono della pelle. Come anche l'armocromia ci insegna, per la scelta della giusta tonalità di biondo, possiamo basarci sul sottotono della pelle. Questo sarà un ottimo punto di partenza per capire se il colore più adatto è un biondo freddo, come il platino, o caldo, tendente al dorato. Ovviamente, questa regola vale non solo per le tinte color block ma anche nel caso in cui volessimo optare per delle meches, dei colpi, di sole biondi o altre tipologie di schiariture. Dopo aver valutato la tonalità dell'incarnato, è possibile scegliere tra molteplici toni di biondo e attingere alla palette dei toni più freddi o a quella dei toni più caldi. Palette delle tonalità dei biondi caldi Nella tabella colori per capelli, i biondi caldi sono caratterizzati da riflessi dorati, da tonalità di biondo scuro e da tutte quelle nuance che ricordano l'ambra e il miele. Seguendo i principi del sottotono, questa tipologia di biondi si addice alle carnagioni scure o chiare, con colori caldi. Biondo miele Questa tonalità dai riflessi dorati si presta molto bene per creare delle schiariture, come dei colpi di sole o delle meches. Il biondo miele è perfetto per valorizzare i capelli castani o per realizzare delle sfumature su quelli naturalmente biondi. Chi ha una pelle chiara, dal sottotono caldo, può scegliere anche un biondo miele che vira verso nuance ramate, donando dei riflessi rosso ramme. La variante ambrata, con sfumature castane e dorate, è particolarmente adatta per chi ha una pelle più scura, dai toni più caldi. Biondo ramato Il biondo ramato, unendo le sfumature fredde del biondo a quelle calde del rosso, è un colore molto versatile e, con qualche variante, può adattarsi a qualsiasi tipo di incarnato. In generale, questa tonalità dona soprattutto a chi ha una pelle molto chiara e occhi verdi o azzurri o chi ha naturalmente capelli rossi. La vivacità delle sfumature ramate creano un bellissimo contrasto con il pallore del viso e la chiarezza dell'iride. Biondo caramello Il biondo caramello è la tonalità ideale per le donne mediterranee e per chi ha una carnagione scura, calda e ambrata che, solitamente, si abbronza con estrema facilità. Questo colore crea una perfetta armonia con gli occhi scuri, dal nero, nocciola fino al verde. Palette delle tonalità dei biondi freddi Richiesto soprattutto per schiariture come balayage, di Gradesche Touche, il biondo freddo è un colore molto ambito, ma a chi sta bene? La palette che include queste sfumature chiarissime, che ricordano i biondi gelidi delle popolazioni nordiche, donano principalmente a chi ha una carnagione chiara e una base naturalmente fredda. Biondo platino Il biondo platino è una tonalità difficile da portare, non è molto adatto a chi desidera dei capelli biondi sfumati, perché viene principalmente valorizzato con un color block, e viene messo in risalto soprattutto attraverso tagli corti più che su lunghezze estreme. È il colore perfetto per chi ha un incarnato freddo e chiarissimo, quasi di porcellana, e per chi ha capelli chiari, in quanto perde totalmente il suo fascino su pelli ambrate e sono necessarie diverse decolorazioni per passare da una base molto scura a una tonalità quasi bianco-polare. Biondo cenere Si tratta di una variante del biondo scuro che si caratterizza per dei riflessi grigio-argento. Il biondo cenere, più dolce rispetto al castano, è la tonalità ideale per chi ha dei dubbi sul diventare bionda e per chi desidera coprire i primi capelli bianchi. Avendo una base fredda, questa tonalità è consigliata principalmente per chi ha una carnagione chiara e per chi ha dei capelli naturalmente castani. Biondo ghiaccio Il biondo ghiaccio, così come il biondo platino, è una tonalità molto chiara ma si contraddistingue per delle sfumature argentate, che donano movimento alla chioma e un'estrema luminosità al viso. Questa sfumatura di biondo valorizza particolarmente gli incarnati molto chiari e freddi ma, avendo cura di armonizzare i colori con radici più scure, può stare bene anche alle pelli olivastre e fredde. Per valorizzare ancora di più il biondo ghiaccio, si può optare per un taglio scalato o un undercut.